Avete del salmone affumicato lì in frigo da qualche parte? Avete un po' di pasta all'uovo? Bene, questa sarà la prossima ricetta, seguitemi. Andremo a fare salmone affumicato, c'è fettuccine o tagliolini con salmone affumicato, zucchina per dargli un po' quella parte di verdura, fare un piatto unico e stracciatella. Non potete pensarci, volete subito mangiarlo? Anch'io. Quindi mettete un like adesso a questo video, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e iniziamo subito a preparare questa meraviglia. Inizio tagliando la cipolla a fettine sottili, non tutta, ne useremo una parte, faremo un soffrittino con un po' di burro, poi vedrete, poi vedrete. Tagliamola fine 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 fine, potete usare anche cipollotti o se a chi piace magari il porro, potete utilizzare anche lo scalogno se volete, però direi che questa bella cipollina di tropea mi sembra adeguata. Dopodiché prepariamo anche le zucchine, togliamo le estremità, così, e via. Facciamo delle fettine il più sottili possibile, così, senza tagliarvi le dita. Mi raccomando, utilizzate sempre le nocche come separatore dalla lama. Perfetto. Una volta preparate tutte, andiamo a tagliare il salmone affumicato. Come lo tagliamo? Ma fate un po' come vi pare. Tagliatelo a striscioline, a cubettini, in questo senso, diciamo, in questa cosa non c'è una vera regola. Come vi piace? A me piace che sia più o meno di queste dimensioni. Così, e poi l'altro lato un po' così come viene. Perfetto. A questo punto dovremo passare finalmente al nostro sartén, quindi un po' di burro, una noce abbondante di burro. Lasciamo sciogliere appena appena. Quando già si è un po' sciolta, aggiungiamo finalmente un mestolino d'acqua. Perché? Perché ora ci aiuterà a fare stufare, non solo soffriggere, ma a stufare le zucchine che adesso aggiungeremo. Ora vi faccio vedere. Facciamo sciogliere tutto. E voilà. Mettiamo prima la cipolla. Vedete? Deve essere una fiamma, diciamo, medio-bassa in questa fase. Dobbiamo proprio stufare lentamente le nostre cipolle. Così. E poi possiamo aggiungere chiaramente anche le nostre zucchine. Così. E adesso mescoliamo affinché, come ripetiamo spesso, i liquidi di vegetazione, sia della cipolla che della zucchina, si mescolino. Vedete? Vedete come l'acqua si è assorbita? Infatti utilizzeremo ancora un po' d'acqua per dare sempre un po' di fondo alle nostre zucchine. Perché vogliamo proprio che si stufino. Però non dovranno diventare molli e vedrete che non lo diventeranno. Alziamo leggermente la fiamma. Adesso pepiamo. Così. E poi gli mettiamo un po' di sale. Io in questa fase utilizzo, ma è solo proprio una scelta così che a me piace, il sale rosso delle Hawaii. Perché ha un sapore particolare. Però voi potete utilizzare, insomma, qualunque sale avete? Non farà la differenza. Magari i palati un po' più fini riconosceranno un punto di dolcezza di questo sale. Mescoliamo tutto. Bene, bene. Se non saltando anche solo con il cucchiaio. Così. O con la lecca pentola. Poi, leggera zest di limone. Ma proprio leggera. Perché in questa fase è solo per dare un grado di acidità. Visto che abbiamo utilizzato molto burro. Diciamo che il limone aiuterà a equilibrare il sapore. Quindi non dovrà essere un sapore prepotente o dominante. Perciò poca. È molto leggera. Continuiamo sempre a stufare utilizzando l'acqua di cottura. Che chiaramente è già salata. perfetto. Vedete? Adesso arriva il momento della pasta. La pasta fresca, quando la mettiamo, meglio lasciarla 20 secondi. Dopo 20 secondi possiamo muoverla in questo modo. In maniera che si separi facilmente e che quindi riuscirà poi a cuocersi uniformemente. Vedete? Così. ogni tanto la muoviamo per vedere che non si sia attaccata. Ecco. Nel frattempo aggiungiamo alcuni pezzi di foglie di basilico. Così tagliate a mano. Tagliato a mano. Così spezziamo e buttiamo dentro. Adesso la pasta manca più o meno un minuto alla cottura. La togliamo già. Però la togliamo in questa maniera. Cioè non buttate l'acqua di cottura. Perché ora sarà fondamentale per procedere alla mantecatura della stracciatella. Quindi adesso mescoliamo bene la pasta affinché si insaporisca. Così. Teniamo sempre la fiamma abbastanza medio-bassa. Mescoliamo bene. Dopodiché continuiamo la cottura utilizzando l'acqua che abbiamo lasciato a parte. Così. E adesso, signori e signori, quello che non ti aspetti. La stracciatella. In realtà vi dico che se non avete la stracciatella a disposizione potete utilizzare anche la panna. In alcuni casi anche un po' di yogurt greco ben mantecato con del formaggio. Però con la stracciatella, mamma mia. Di nuovo, anche se ho messo la stracciatella, continuo a fare la mantecatura. Come? Aggiungendo acqua e parmigiano. O nel mio caso io metto pecorino romano perché l'ho volutamente lasciata un pelino indietro di sale. Perché mi piace più il sapore del pecorino. Così. Vedete come si sta creando la cremina? Vedete anche il fondo? Comincia a filare così. Ora aggiungiamo i tocchetti di salmone. Non tutti, eh. Lasciamone qualcuno da parte per la decorazione. Così i vostri ospiti rimarranno colpiti perché avranno un salmone in, per così dire, in doppia densità, no? Doppia consistenza. Così. Aggiungiamo sempre acqua. In questa fase deve essere solo proprio scaldato il salmone. È finita la cottura della pasta. Le zucchine noterete che non saranno molli, saranno veramente perfette. E adesso l'impiattamento. Lo sto facendo XXL perché a me piace così. Perfetto. Vedete? Adesso decoriamo. Quindi aggiungiamo il salmone che abbiamo lasciato da parte. Così. Poi mettiamo adesso un po' di zest di limone. In questo caso anche decorativa. Oltre che in questa fase darà un po' di sapore in contrasto anche con il salmone che è abbondante come vedete. Vedete? Così. Sempre molto leggero. Usate gli strumenti giusti così da non mettere nessuna parte bianca. Decorazione. E voilà. Adesso ultimo tocco è il pepe. Io uso un pepe multigrani. Quindi non solo nero. E adesso finalmente è arrivato il mio magico momento. Vado a provare. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi. Ragazzi. Che cosa ho preparato oggi? Veramente da fuori di testa. Da resti domiciliari. O comunque veramente una ricetta spettacolare. Fra l'altro potete dare sfogo alla vostra fantasia perché ci sono veramente altre varianti che si possono fare su questa ricetta. Anzi se ne avete qualcuna indicatela. Se vi è piaciuto questo video mettete un like. Se non l'avete fatto come sempre vi esorto a iscrivervi al mio canale. E vi ricordo che tutte le ricette le trovate anche per iscritto sul sito web www.giuseppegigliaschef.com. Molto bene. dall'Italia, dal Piemonte è tutto. Arrivederci alla prossima ricetta. Ciao.